Abbiamo approvato in giunta il progetto per il consolidamento del primo straccio di intervento su quello che è stata la frana di Carignano avvenuta nel 2015. Una frana che ricordiamo fu anche molto pericolosa non solo per la strada di percorrenza sotto ma anche per tutti quelli che l'abitavano. Ecco oggi che interveniamo con un progetto significativo di 500 mila euro di cui 4,30 sono finanziate con un progetto ministeriale con un bando del PNR al quale noi ci siamo candidati e con una partecipazione di spesa di 120 mila euro da parte del Comune di Fano. Si tratta di un intervento di regimazione di quelle che sono le acque superficiali in capo al monte per poi procedere alla realizzazione di gabbionate a fianco dei sottoservizi di acquedutto e intercettando quelle che poi sono le acque sotterranee che drenano la collina sovrastante. In questo caso coinvolgeranno nella rete di smaltimento delle acque bianche evitando quindi che vadano a saturare i terreni più a valle quindi che sono già stati coinvolti da questo tipo di frana. Saranno eseguiti interventi di stabilizzazione definitiva delle scarpate mediante l'utilizzo di gabbioni oppure di parte di terreni armati che naturalmente verranno utilizzati come base d'ancoraggio. Questo intervento migliorerà sicuramente la stabilità della collina e di conseguenza la sicurezza anche di tutte le persone che transiteranno sulla strada ma anche dei residenti. Naturalmente è un intervento che pone un'attenzione sempre più importante a quello che è il dissesto idrogeologico per il quale noi ci stiamo candidando in più azioni anche diffuse in città perché questa è una priorità.